di avere il sentimento da crescere i nostri modi e un domani nella sicurezza della strada e voi avete il coraggio di affacciarvi in questa sicurezza i polvo da qua oggi non partiranno, noi resteremo qui, ci stenderemo giù a terra di che cosa succede noi, non scenderemo qui, avete capito? i polvo da qua oggi non partiranno nessuno